Molto spavaldo a fidarsi anche ad atteggiamenti postrapotenti nei confronti dell'avversario della quarta ripresa da Worcester nel Massachusetts il ritorno sul ring di Sugar Ray Leonard contro Kevin Howard, quarto round, mezzo sulle dieci riprese l'atteggiamento superiore al limite dei pesi Welter, il peso registrato dai due pugili, 67 e 500 Leonard, 68 e 100 Kevin Howard destro in uscita di Sugar Ray toccato col sinistro Leonard, scattava la battaglia, poi un destro di Howard, poi il sinistro di Howard due buoni colpi abituato a considerare Leonard le campioni del mondo, viviamo quasi di chiamare Howard l'ospedante in realtà è un incontro senza titolo in paglia, dieci riprese è sempre al centro del ring che è in agua il danza attorno cercando a perdere favorevoli Sugar Ray il destro di Sugar Ray, poi tocca col sinistro Howard combinazione del destro di Sugar Ray non si fa insipidire dagli appoggiamenti di Sugar Ray, Kevin Howard il destro, il destro alla punta del mento, Sugar Ray Leonard al tappeto, al tappeto al tappeto, gli è costata cara la sua presunzione Kevin Howard con un destro alla punta del mento lo ha messo al tappeto volta drammatica dell'incontro si riprende, Kevin Howard cerca di approfittare della favorevole situazione le erano alle corde, il sinistro, gancio sinistro di Howard ancora il sinistro di Howard il destro di Kevin Howard sulla conclusione di questa drammatica quarta ripresa caratterizzata da un incredibile inatteso knockdown inflitto da Sugar Ray Leonard a Kevin Howard ecco attenzione riproposte al rallentatore ecco il destro, avete visto il destro di incontro che ha mandato al tappeto ecco riproposto l'azione dall'alto il destro di incontro di Kevin Howard al tappeto, un limpido knockdown ecco da un'altra angolazione magnifico il lavoro delle telecamere della HBO ritorno al ring molto più difficile del previsto per Sugar Ray mentre comincia la nonna ripresa Kevin Howard con il montante sinistro ha iniziato spavaldamente questo no la ripresa Kevin Howard con il destro di Howard vince un po' Howard in questa azione poi il montante destro di Leonard ma reagisce con un gancio sinistro Howard il gancio sinistro di Leonard tre volte col sinistro Howard poi un destro della figura dentro di Howard poi sinistro e destro di Leonard provato a caricare il montante dentro Leonard poi prova col gancho sinistro due volte col sinistro prima al viso poi al corpo Leonard destro sinistro sempre Leonard ancora il sinistro di Leonard il gancio sinistro di Howard due volte la figura da parte di Leonard o il sinistro il sinistro di Leonard sotto premano e ballano le gambe di Kevin Howard che si aggrappa dal stadio per non cadere il sinistro di Leonard è andato a segno aspetto la damba di Howard questa è la mia impressione attenzione il destro il destro sinistro il destro ancora di Leonard in difficoltà gravissima Kevin Howard non riesce a rimanere in piedi questo è l'arbitro che ferma il combattimento l'arbitro ferma il combattimento decreta in KO tecnico decreta in KO tecnico una decisione almeno discutibile che si poteva contare Kevin Howard grazie a tutti